Sono Mero Giovanni, sono di Roccaforzata, sono proprietario di questa masseria denominata la ginestra proprio perché si trova in una zona dove ci sono le ginestre, dove si può vedere proprio in questo periodo la fioritura delle ginestre naturali. Siamo di terza generazione con questa attività di pastorizia e ho deciso così di continuare questa attività che noi ce l'abbiamo nel sangue, che mio padre che purtroppo non c'è più, ce l'ha tramandata sia me che mio fratello. Stiamo continuando questa attività, io con l'allevamento di pecore, quindi un allevamento vino, mentre lui con un allevamento caprino. Io allevo pecore di razza con Isana, la siciliana nostra della Puglia e questa azienda l'ho intestata a mia moglie perché io sono un dipendente ILVA e sto portando avanti questa attività. Ho fatto il mini casificio aziendale sull'azienda, grazie a Dio ho autorizzato con tutte le normative che prevedono le leggi e no, stiamo continuando così a portare avanti questa attività. Purtroppo in questo momento non vi posso far vedere le pecore perché sono al pascolo, ho messo su anche dei bovini perché sto facendo una trasformazione anche del latte bovino, stiamo facendo delle mozzarella e piano piano ci stiamo abbinando in questo momento.